Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Ringraziamo Eugenio Abamonte, Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, PM presso la Procura di Roma, dove ha condotto importanti inchieste. Io partirei proprio da alcune emergenze contemporanee che riguardano anche alcune inchieste che lei ha condotto, io parlerei di minaccia terroristica. Lei è particolarmente esperto in crimini informatici, in cybersicurezza, ecco. L'ISI sta avendo delle sconfitte militari sul campo, in Siria, in Iraq, anche abbastanza pesanti, è caduta racca in queste ore, quindi stanno subendo delle gravi perdite. Ma dal punto di vista del web, dell'attività su internet, le organizzazioni terroristiche sono sempre attivissime. Ecco, è quella, secondo lei, la nuova frontiera del contrasto? Sicuramente il tema del digitale, diciamolo così, è un tema del futuro, anche nelle sue pieghe negative. Una delle esperienze che stiamo vivendo proprio in questi anni è l'utilizzazione affini terroristici. Tra queste c'è anche l'utilizzazione da parte del terrorismo di matrice islamica, che fino adesso però, devo dire, ha dimostrato di utilizzare i canali del web soprattutto per condotte, diciamo così, collaterali rispetto a quelle del compimento di veri e propri atti terroristici, quindi attività di proselitismo sicuramente, di comunicazione, di divulgazione, di rivendicazione, e quindi tutte legate alla creazione di quell'ambiente di vicinanza diffusa in cui poi emergono i comportamenti dei cosiddetti lupi solitari, di persone che si auto, diciamo, ammaestrano al compimento di atti terroristici, ancora prima si autoradicalizzano e che quindi poi tramite questo canale hanno, come dire, una capacità di collegamento reciproco. Ma da esperto, da addetto ai lavori, secondo lei la collaborazione internazionale è sufficiente? Si parla di una procura europea, adesso non si sa bene di che cosa si deve occupare. La cooperazione internazionale non solo per il contrasto al terrorismo in tutte le sue forme, ma per il contrasto alla criminalità informatica è strategica, anche perché noi abbiamo sempre l'elemento di mediazione, diciamo così, che è quello proprio dello strumento, e lo strumento ha per sua natura l'area di diffusione sul territorio mondiale. Se un soggetto dall'Italia tramite internet commette un reato ai danni di un'altra italiana, molto spesso c'è un server che si trova all'altro capo del mondo. Quindi la capacità di indagare senza confini territoriali attraverso la collaborazione è strategica. Sempre un tema di stretta attualità. Di ieri il caso della persona che è rientrata a casa a Latina, ha trovato un ladro mentre compieva un furto, ha sparato e l'ha ucciso. Lei da magistrato, questa tendenza all'autotutela, al crescere dell'autodifesa, lei da magistrato è un po' preoccupato da questa giustizia fai-da-te che potrebbe diventare una sorta di far west, in cui ognuno decide in qualche modo di farsi giustizia da solo? Questo è un tema ovviamente molto molto delicato. Abbiamo avuto pochi mesi fa anche un dibattito molto acceso nella società legato a riforme di legge sulla legittima difesa. Sicuramente c'è un problema che è quello della percezione di sicurezza rispetto alla situazione di sicurezza reale, che è uno dei problemi. Secondo me non va demonizzata ovviamente la possibilità di difendersi legittimamente nei termi e nei modi in cui il codice consente, tra l'altro sono nell'interpretazione che ne fanno i giudici assolutamente adeguate a garantire che non vi siano iper responsabilizzazioni o, peggio ancora, guai giudiziari interminabili per persone che hanno semplicemente esercitato il loro diritto. Dall'altra parte è bene però che tutto questo venga affiancato a una riflessione sulla modalità corretta di uso delle armi. C'era qualcuno nell'ambito di questo dibattito che diceva ma come mai nessuno si prende la briga di spiegare come sia difficile poi una volta che uno ha un'arma saperla utilizzare con perizia, custodire in modo che non ci siano danni per terzi. Sono tutti temi che sono rimasti fuori dal dibattito sui quali invece bisognerebbe approfondire un po' di più. Parliamo anche dei rapporti tra magistratura e politica, so che è un tema sensibile, ne parlerete tra l'altro credo anche al congresso che avrete tra qualche giorno a Siena. Come sta adesso? Qual è la situazione dei contatti, delle relazioni tra magistratura e politica? Ci sono state polemiche feroci anche nel passato recente. In generale questo, ma più in particolare, se un magistrato si butta in politica, come si dice, si candida per essere eletto in Parlamento alla Camera e al Senato, poi secondo lei è giusto che al termine del mandato parlamentare torni ad esercitare la funzione giurisdizionale. Non c'è il rischio di un condizionamento nel suo operare? Partendo dalla fine, il tema della partecipazione dei magistrati alla vita politica è un tema sullo quale la NM, seppur in modo non unanime, si è espressa recentemente, anche qui in occasione di un dibattito che si è creato intorno alla legge che è in fase di approvazione. In sé il fatto di partecipare alla vita politica non può essere elemento di pregiudizio del magistrato rispetto ad altri. Non possiamo arrivare al punto per cui il magistrato sia un cittadino di serie B che non può ambire a presentarsi in una competizione e partecipare alla vita politica, anche perché il contributo dei magistrati e in generale dei giuristi penso che si debba apprezzare nel nostro Paese che è caratterizzato anche da una scrittura delle leggi spesso un po' troppo tecnica e quindi è giusto che chi ha una competenza possa contribuire. L'altro problema invece è quello che cosa deve fare il magistrato quando ha svolto l'esperienza politica. Noi abbiamo una dimensione già definita che è quella costituzionale che prevede il divieto dei magistrati a partecipare ai partiti politici e questo una volta veniva considerato il giusto punto di equilibrio anche perché il deputato o il senatore erano garantiti nella forma e nella sostanza da un principio di autonomia e indipendenza che era il divieto del vincolo di mandato. Oggi si è evoluta anche la costituzione materiale molto probabilmente questo sbergo per il parlamentare è meno forte anche perché il sistema di reclutamento della classe politica il sistema di finanziamento, di formazione delle liste anche il sistema del voto è tale da consentire molti meno spazi a quelli che una volta erano gli indipendenti nelle file dei partiti politici. Questo è un tema all'attenzione dell'opinione pubblica nella misura in cui determina una perdita di immagine di terzietà da parte dei magistrati è giusto che noi ce ne facciamo carico. La posizione che è stata espressa a maggioranza non all'unanimità insieme alla NM è che il magistrato possa anche non più tornare a vestire la toga possa mantenere la qualità di magistrato ma lavorare con la sua professionalità e senza venirne mortificato all'interno di altri settori per esempio noi abbiamo una serie di incarichi cosiddetti fuori ruolo non di giurisdizione attiva ma comunque di partecipazione alla vita giudiziaria e per quello che noi possiamo fare anche magari cedendo qualcosa nei nostri diritti, nelle nostre prerogative una maggior fiducia nella magistratura e nella giustizia di cui obiettivamente c'è bisogno. A volte però i magistrati sono un po' accusati di esternare troppo anche di recente il vicepresidente del CSM Legnini anche senza mai nominarlo ha fatto riferimento a Davigo quando ha parlato di magistrati che passano un po' troppo facilmente dai talk show alle aule dei tribunali ecco, secondo lei da presidente della NM è vera questa cosa che i magistrati parlano un po' troppo? Adesso non voglio entrare nel merito di singole vicende che tra l'altro non sono neanche univoche nella loro interpretazione a proposito di questo o quell'altro magistrato quello che noi diciamo e che ho detto anche io recentemente l'ANM è l'associazione dei magistrati che ha anche scritto il codice deontologico dei magistrati in questo codice non sono previste limitazioni al diritto di parola come è giusto che sia, anche qui c'è un principio costituzionale che riconosce a tutti il diritto di parola però il nostro codice di regolamentazione ci esorta vivamente ad avere dei toni compatibili col nostro ruolo con la nostra immagine sociale, con la nostra immagine professionale che è comunque di terzietà e quindi si presuppone che il contributo che dà il magistrato e che secondo me è opportuno che dia anche al dibattito pubblico sia espresso con quella, come dire, ponderazione di giudizio tale da non essere incompatibile con la sua percezione di soggetto terzo ed imparziale quello che dicevo la scorsa settimana a proposito di questo argomento magistrato, se ogni volta che parla anche in uno studio televisivo si ricorda che la mattina dopo dovrà vestire la toga e quindi i cittadini che andranno di fronte a lui non devono avere un pregiudizio di una sua faziosità secondo me può benissimo parlare e dare il contributo da intellettuale, da giurista, da uomo di cultura e di donna di cultura che può dare al paese senza però interferire nella fiducia ancora una volta che i cittadini devono avere nella giustizia Parliamo un po' di intercettazioni è un tema sensibile sia per i risvolti che ha per i cittadini per la vita quotidiana dei cittadini ma anche diciamolo perché è un tema molto sensibile per la politica e forse anche per questo che è così difficile regolamentare la materia nel decreto attuativo della riforma penale si prevede che gli atti delle procure e le conversazioni necessarie siano riportate per intero e non più soltanto per riassunto come si era ipotizzato in una prima bozza questa è una soluzione che la soddisfa? Beh, questo sicuramente è un passaggio strategico in un primo testo di questa riforma in corso di approvazione era previsto appunto che le intercettazioni non venissero più riportate per esteso e quindi con il virgolettato ma con una sorta di riassunto che il magistrato prima del PM e poi il giudice della misura cautelare eventualmente doveva fare nel suo provvedimento questo avrebbe prodotto secondo me un cortocircuito un po' come il gioco del telefono senza fili che facevamo sulla spiaggia da ragazzi in cui ci si mette in circolo ognuno dice all'orecchio del vicino la frase e poi quando torna a chi la pronuncia è cambiata completamente mentre in questi passaggi è strategico che la testualità delle dichiarazioni perché sono quelle che sono come dire eventualmente la prova o l'indizio nella fase delle indagini della responsabilità e quindi anche per tutela del diritto di difesa è importante che siano riferite nella loro testualità In tema di prescrizione lei ha detto che l'allungamento dei termini insomma a cui si è arrivati incide sugli effetti e non sulle cause del problema si riferiva al sovraccarico di lavoro che avete nelle procure alla carezza di risorse, al personale che manca Esattamente, mi riferisco a questo Noi in realtà, io fabbrico ministero come lei ha detto in premessa e quindi meglio di altri settori della giustizia conosco il mio e noi da anni siamo continuamente investiti da nuove ipotesi di reato a volte anche per dare una risposta in termini formali a quella richiesta di tutela o di sicurezza pubblica che a volte fondatamente, a volte meno anima il dibattito sociale e quindi cosa si fa? Si fa una norma Che norma? Una norma penale Ovviamente ogni norma sovraccarica un circuito si immettono nuove richieste e le risposte che noi possiamo dare a struttura invariata e quindi con quell'organizzazione, quel personale, quei mezzi sempre quelle sono Questo determina un disavanzo sono molte più le richieste che non le risposte che noi riusciamo a dare Questo determina una frustrazione sia del cittadino perché alcune domande non troveranno risposta o la troveranno in una risposta inaccettabile e anche per noi non certo soddisfacente che quella della prescrizione Non solo ma danno in generale un'immagine di inefficienza della giustizia di cui non solo i cittadini ma gli stessi magistrati sono vittime perché a nessuno piace pestare l'acqua nel mortaio lavorare, lavorare, lavorare sapendo che una buona percentuale del proprio lavoro finirà nel nulla finirà in carta straccia e in macerie Ecco perché noi dicevamo nella situazione attuale la riforma che è stata fatta alla prescrizione era inevitabile purché da domani mattina si mette mano invece alle reali cause per arrivare a soluzioni che non siano tampone ma che siano di lungo respiro Ecco per collegarmi a questo lei diceva sempre nuove fattispecie di reato ma a questo proposito al contrario forse una depenalizzazione decisa di fattispecie che non creano allarme sociale di rilevanza penale minore forse potrebbe aiutare le procure ingolfate Sarebbe un passaggio importante Noi devo dire che abbiamo pensato anche come associazione nazionale magistrati di aprire un dibattito ampio coinvolgendo anche l'avvocatura l'avvocatura dei penalisti e più in generale l'avvocatura del Consiglio Nazionale Forense nel tentativo di definire tutti insieme una depenalizzazione più ampia che restituisca un po' più di funzionalità quindi meno domanda di giustizia ma più risposte A questo proposito uno dei casi più eclatanti che potremmo citare ad esempio per quanto riguarda la cannabis la legalizzazione della marijuana che costituisce buona parte dei nuovi procedimenti che vengono aperti per i fatti di droga secondo lei potrebbe aiutare? Lei come la pensa proprio personalmente su questo dibattito legalizzare la cannabis depenalizzarla oppure no? la ringrazio di interpellarmi a titolo personale immagino che non può parlare per tutta la categoria però è vero anche che il fatto di essere presidente dell'ANM per decisione che ho assunto ad aprile inizio del mio mandato non mi consente di dare una mia opinione personale dico che la magistratura come la società è divisa su questo argomento ci sono fautori e oppositori anche all'interno della magistratura anche nella vostra categoria e tra l'altro c'è stato un dibattito pubblico animato anche da magistrati di grande prestigio come l'attuale procuratore nazionale antimafia Roberti e il procuratore di Catanzaro Gratteri che sono su posizioni opposte quindi non me la sento di dare una posizione perché inevitabilmente verrebbe addossata all'intera magistratura però per esempio approfitteremo del congresso che facciamo a fine settimana a Siena anche attraverso questi due protagonisti per aprire un dibattito anche al nostro interno nell'attesa sempre che arrivino soluzioni da parte del legislatore parliamo un po' della vita quotidiana del vostro lavoro anche della sicurezza del vostro lavoro a Perugia qualche settimana fa ci sono state tre persone accoltellate due giudici e un impiegato amministrativo e non era il primo caso ce ne sono stati altri anche in passato anche più gravi questa sicurezza delle aule giudiziarie viene un po' messa a repentaglio periodicamente voi che cosa chiedete al governo? se non cambierà qualcosa avete programma iniziative di protesta o cose del genere? ma noi devo dire che l'intera magistratura di questo paese è rimasta sgomenta come gran parte dei cittadini rispetto a questo fatto il problema è che una parte della mancanza di strutture di dotazioni, di risorse investe anche il piano della sicurezza per cui in determinati uffici giudiziari non ci sono adeguati presidi di vigilanza non ci sono metal detector adeguati questo dipende un po' dal taglio che negli anni passati è stato fatto in modo forse poco avveduto delle risorse della giustizia che ci ha lasciato in queste condizioni certo che arrivare al punto che dopo che questa cosa è già successa a Milano e che continua a succedere nei tribunali per noi diventa un'occasione di indignazione abbiamo richiesto ovviamente a tutte le articolazioni che hanno competenza in questo di monitorare questa situazione in parte lo stiamo facendo anche noi come associazione nazionale magistrati chiediamo che vengano ripristinate le condizioni di sicurezza minima degli uffici giudiziari non solo per noi ma i nostri uffici giudiziari sono un po' come dire delle agorà aperte ogni giorno passano decine e decine di cittadini ci sono alcuni uffici giudiziari dove ci sono minori perché appunto c'è quella competenza specifica ci sono gli avvocati c'è il personale amministrativo e tutte queste persone sono esposte quanto noi e forse anche più di noi visto che spesso sono nei corridoi a questo tipo di fatti che non può avvenire che è talmente contraddittorio rispetto al senso di giustizia che dei luoghi del genere dovrebbero ispirare e poi garantire che veramente diventa un cortocircuito anche di immagine insopportabile non abbiamo allo Stato preso in considerazione la possibilità di fare iniziative perché confidiamo nell'assoluta tempestività di intervento da parte di tutte le istituzioni a partire dal Ministro che appunto mi sembra di vedere che si sia attivato tempestivamente Ecco parliamo dell'ANM di recente Pier Camillo Davigo ha lasciato con la sua corrente l'aggiunta unitaria dell'Associazione Nazionale Magistrati le volevo chiedere questa l'unitarietà è un valore importante voi vi siete sentiti avete modo di ricomporre quella che è stata una frattura c'è la possibilità di tornare a un'aggiunta unitaria? per fortuna la rottura dell'aggiunta unitaria non ha inciso sui rapporti personali e quindi ovviamente ci sentiamo e c'è sempre stima, recifro e disponibilità alla collaborazione l'unitarietà era delle varie componenti delle cosiddette correnti che animano l'ANM e la vita della magistratura era per noi un risultato importante perché era la prima volta che si riusciva dopo anni a presentarsi anche rispetto al mondo che ci circonda in modo compatto e coeso la magistratura ha bisogno di recuperare credibilità nei confronti degli altri interlocutori e nei confronti dei cittadini e il modo migliore era presentarsi in modo unitario si è verificato un incidente non facilmente comprensibile per alcuni io sono tra questi che non ha ben capito quali fossero le cause di questa rottura sicuramente in osseguio a quello che era l'impostazione iniziale c'è sempre una disponibilità a riprendere un percorso comune anche con i colleghi del gruppo di Pier Camillo Davico ecco diciamo prima che l'ANM si ritroverà a congresso tra pochi giorni a Siena tra i temi anche alcune delle cose di cui abbiamo parlato oggi le risorse per la giustizia le riforme il rapporto tra magistratura e politica voi alla vigilia di questo appuntamento così importante che cosa chiedete al legislatore se può mettere sotto forma di appello a chi deve decidere su di voi con l'attività normativa adesso non voglio fare spoiler sull'andamento del congresso altrimenti poi non ci viene nessuno no sto scherzando non è non è un romanzo giallo no sicuramente una richiesta che posso anticipare perché già l'abbiamo articolata in varie sedi per la prima volta in questo quadriennio stiamo vivendo un'inversione di tendenza sul tema delle risorse necessarie per la giustizia siamo passati attraverso un lungo deserto che è durato più di vent'anni fatto di tagli massivi alla spesa giudiziaria che di fatto non so se nelle intenzioni ma sicuramente di fatto ha ancora di più pregiudicato la sua possibilità di essere efficace funzionale e quindi ne ha inclinato sempre di più la fiducia che i cittadini devono avere nella giustizia perché una giustizia inefficiente ovviamente non suscita fiducia in nessuno quindi la nostra richiesta è che questo in versione di tendenza cioè ricominciare a investire nella giustizia venga proseguita che questo approccio nuovo persino rivoluzionario vorrei dire da alcuni punti di vista di questa legislatura di questo quadriennio sia garantito anche dai governi che verranno questo è sicuramente uno dei temi forti della nostra richiesta una giustizia senza risorse è una giustizia che non funziona ma una giustizia con risorse adeguate è anche produttiva di gettiti economici per lo Stato quando si teorizzava nel ventennio precedente che la giustizia era un peso morto ecco è una comunicazione assolutamente sbagliata la giustizia attraverso una serie di strumenti pensiamo al recupero dei patrimoni illegali ma soltanto per dirne una ha la possibilità di rimettere nelle casse dello Stato una serie di risorse che gli sono state brutalmente sottratte dai meccanismi di illegalità quindi la mancata giustizia ha un costo la mancata giustizia ha un costo non solo ma la giustizia potrebbe ampiamente automantenersi e comunque recuperare risorse soverchianti rispetto alle sue esigenze di spesa e alimentare altri settori dell'amministrazione del governo di questo paese se viene ripristinata nella sua funzionalità allora speriamo che chi decide sulle risorse vi ascolti speriamo sì sì buon lavoro per il congresso grazie al presidente della NM general Bomonte grazie a tutti voi